Un altro riconoscimento per il regista statunitense è considerato una leggenda del cinema internazionale. Steven Spielberg ha ricevuto l'orso d'oro alla carriera alla Berlinale 2023 per il suo lavoro sul grande schermo che ha conquistato ed emozionato generazioni intere. Alcune delle sue opere sono tra le più poppari nel mondo del cinema, da IT a Schindler's List, da Salvate il soldato Ryan a Jurassic Park, a consegnargli il premio un suo grande fan e amico Bono Vox. Questa onore ha particolare significato per me perché sono un direttore giudice. E mi piace di credere che questo è un piccolo momento in un esercizio in un esercizio in grado di cura i posti di storia, ciò che i giudici chiamano Tikkun Olam, il riparare e ristruttare del mondo. Grazie a tutti per questo, sempre. Intanto sul grande schermo è in uscita in Europa l'ultimo lavoro di Spielberg, The Fablemans, una storia autobiografica sulla sua infanzia e giovinezza, uno dei film favoriti agli Oscar che si svolgeranno il 12 marzo a Los Angeles.